Abbiamo peraltro recuperato importanti fondi, circa 24 milioni di euro di fondi non spesi del Fondo Sociale Europeo del Fondo Sociale Europeo del 2006 che erano andati in sostanza in pervenzione e 16 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo con cui abbiamo fatto degli interventi come lavorare in Abruzzo che ha creato una veramente, è stato un eccezionale risultato da un punto di vista di occupazione, di nuova occupazione e abbiamo recuperato 16 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo che non erano stati spesi nel passato. Questo perché ho parlato delle entrate, perché? Perché il nostro obiettivo era anche e soprattutto ridurre l'indebitamento degli abruzzesi. Come si riduce l'indebitamento degli abruzzesi? Due erano le strade, o aumentare le entrate, e quindi aumentare le tasse, oppure ridurre la spesa pubblica. Non c'è altro verso. Quando c'è un debito, questo debito o lo si ripiana avendo maggiori entrate che prima non avevi, oppure riducendo le spese. Noi abbiamo ridotto le spese fortemente, ma abbiamo anche avuto qualche fondo in più grazie all'azione di recupero che è stata portata avanti. L'effetto di tutte queste cose, ne ho dette solo in parte, solo una parte ovviamente, è stato quello della riduzione dello stock dell'indebitamento della regione Abruzzo. Cioè la regione Abruzzo, in un anno e mezzo, diciamo, perché noi stiamo ancora dicendo qua due anni, io credo che ancora non facciamo 20 mesi di governo, e con un terremoto di mezzo, abbiamo ridotto lo stock dell'indebitamento complessivo della regione Abruzzo, cioè indebitamento proprio più indebitamento del sistema sanitario, del 12,5%. E non c'è nessuna regione italiana, e nessun paese, quindi governo centrale, che nel giro di un anno e mezzo abbia ridotto il suo stock di indebitamento del 12,5%. Abbiamo ridotto il costo dell'indebitamento, cioè il costo che gli abruzzesi devono pagare per mantenere questo indebitamento del 16%, facilitati certamente dalla riduzione dei tassi internazionali, ma soprattutto per il fatto che per la prima volta, anche questo devo dire, c'è un governo che in 20 mesi non assume un ulteriore indebitamento. Cioè nel passato era difficile trovare situazioni che venivano lasciate tanto migliori delle precedenti. Il disavanzo della sanità l'abbiamo ridotto a valori antecedenti al 2000, il disavanzo annuale della sanità, abbiamo fatto una fortissima riduzione dei detti di spesa della sanità privata, oggi ci accusano di essere... Insomma, tutte queste cose, e non solo queste cose, hanno determinato quello che è la ragione oggi della conferenza stampa. Cioè l'agenzia di rating MUDIS ha migliorato quello che è il rating della regione Abruzzo. Rating della regione Abruzzo che aveva avuto delle riduzioni... Che cos'è il rating? Il rating in sostanza è, scusate se lo dico, voi lo sapete senz'altro, però è bene che la gente lo possa capire, i vostri lettori, si tratta in sostanza della affidabilità della regione Abruzzo e del sistema, diciamo così, debitorio della regione Abruzzo. Cioè la reputazione del nostro debito. Quanto siamo in grado di garantire la possibilità di rimborso di questo debito nel medio-lungo termine, soprattutto nel lungo termine, e questo devo dire che hanno l'outlook, cioè è stato passato da prospettive negative a prospettive stabili. Naturalmente se non ci fossero stati forse 101 milioni di euro che sono stati scoperti qualche tempo fa, come voi sapete, io di notizia, probabilmente avremmo anche potuto avere qualcosa in più. Però io credo che questo sia un'inversione di tendenza importante, soprattutto in un momento in cui le agenzie di rating procedono sistematicamente, sia per i governi centrali che per i governi regionali, alla riduzione del rating, alla diminuzione del rating. Cioè anche questa è una cosa in controtendenza della regione Abruzzo. Ecco, io adesso vorrei passare la parola all'assessore Masci, che vi dirà le ragioni per cui e qual è il giudizio di Moody's per quanto riguarda la gestione delle finanze abruzzesi. Che non sono le gestioni della finanza della regione, sono le finanze degli abruzzesi. Cioè sono i soldi degli abruzzesi, è il debito degli abruzzesi, questo che si deve capire. E' una precisazione, i fondi del terremoto non c'entrano niente con la regione, perché se no uno potrebbe dire, cioè i fondi del terremoto vengono gestiti dalla struttura governativa, cioè dal governo, che sarei come rappresentante, come commissario sono io, ma non passa attraverso il bilancio della regione, bensì attraverso il bilancio del governo, dello Stato. Seconda cosa, quello che noi abbiamo voluto interrompere è il discorso della cambiale mefistofelica, cioè la cambiale che veniva utilizzata spostando sulle future generazioni degli abruzzesi il bubone. Cioè in pratica si facevano le cose, si spendeva in maniera qualcosa utile, qualcosa meno utile, ma si spondeva a debito, in maniera tale che gli abruzzesi che sarebbero arrivate, le nuove generazioni, si sarebbero trovati quel debito che ci siamo trovati noi, cioè il debito principale, il più alto debito delle regioni italiane. Oggi non siamo più la prima regione italiana per debito, siamo la seconda regione italiana per debito, la prima è il Lazio. Ma immaginate che fino a poco tempo fa, la regione prima che arrivassimo noi, la regione Abruzzo era la prima regione italiana. Questo non significa, significa di aver fatto un percorso in 18 mesi, veramente io ringrazio la Giunta per avermi coadiuvato in questo, ma certo non è finita, perché noi dobbiamo tornare a essere una regione normale, dobbiamo uscire dal baratro dove stavamo e noi stiamo risalendo il baratro, cosa più complicata che non finirci per niente, voglio dire, quindi risalendo il baratro. Qualcuno dice, noi stiamo facendo una politica ragioneristica. No, noi stiamo facendo, interrompiamo la cambiale epistofelica ed è un atto politico, è una scelta politica, non ragioneristica. Secondo, siamo convinti che la buona politica deriva dal fatto di fare una buona e un uso oculato delle risorse che i cittadini ci mettono a disposizione. Terzo, gli atti attraverso i quali siamo arrivati a questo risultato sono atti che hanno ciascuno di loro una fortissima valenza politica e di scelta politica. Quindi, quando si parla di visione ragioneristica, l'accusa che è stata fatta a tutti coloro che nel nostro Paese hanno cercato di ridurre i costi e tagliare le spese e ridurre la spesa pubblica. In realtà, nel momento in cui si vanno a fare i tagli, nel momento in cui si va a portare il rigore, si porta un principio etico molto forte, che è una scelta politica. Quindi, secondo me, questo è un argomento che credo che avremo molto bisogno nel futuro di gente che ha a che fare, che sa che cosa sta facendo, perché i soldi sono degli abruzzesi, che fa una politica oculata, piuttosto di gente che evoca scenari teorici senza avere nessun poi riscontro con la realtà. E soprattutto facendo passare un messaggio, che è un messaggio diseducativo, che c'è pantalone, che c'è che il debito si può fare illimitato, che si può ottenere tutto senza che il debito qualcuno debba essere chiamato mai a pagarlo. I debiti si pagano. In Abruzzo ne sono stati fatti tanti. Noi siamo quelli che li stiamo cercando di pagare in maniera tale che quando andremo via, prima o poi accadrà, però prima o poi accadrà, chi arriverà dopo di noi troverà una situazione molto, ma molto migliore di quella che abbiamo trovato noi. e poi crediamo di fare una buona cosa per le future generazioni di Abruzzesi, cioè per i nostri figli. C'è chi governa guardando all'oggi, ed è il burocrate, e chi governa invece guardando da qui a 5, 6, 7, 10, 15 anni, che fa politica. Grazie. 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 Grazie.